tra un'intervista e l'altra lei la nostra sposa che è pronta a brindare però io ti interrompo ancora prima del brindisi perché voglio conoscere questa sposina che si chiama Beatrice Beatrice ciao Beatrice da dove vieni? Piacenza da Piacenza da Piacenza dall'Emilia con furore allora ti sposi? Sì eh sì eh sì se no stavo caldo aspetta facciamo bene la foto foto ok ora possiamo continuare l'intervista allora la sposa si chiama Beatrice si sposa con? Stefano con Stefano guarda ti faccio vedere una sorpresa perché io so che ti sposavi con Stefano guarda cosa c'è scritto sul mio braccio vedi ho tatuato anche il nome dello sposo sul mio braccio allora dimmi come ha fatto Stefano a chiederti di sposarlo e si è ginocchiato ok in quale occasione in che contesto perché quando verrà Stefano io voglio scoprire da lui se dici la verità è nel nostro anniversario è nel nostro anniversario e sei ginocchiato e basta mi ha chiesto eravate dove? eravate alla sua e quindi quando verrà qua Stefano gli chiede la seconda proposta di matrimonio è stata fatta qui a casa sua in ginocchio e se dici la verità ok? va bene promesso? va bene sei pronto a festeggiare invece il tuo dia a dia nubilato qui? sto già festeggiando sto già festeggiando ragazze venite qua che facciamo un brindisi un brindisi qua guardate la camera del nostro Mr. Dave sentiamo le voci delle fighette dell'Emilia Romagna dai Piacenza Piacenza con 8 Z un urlo per la sposa Beatrice grazie ! bravo 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 grazie Grazie a tutti.